buongiorno amici cari siamo al 20 dicembre 2022 questa mattina ce la siamo presa comoda si intanto alberi a proporre non ce ne sono ma al massimo vi potrò proporre un po d'acqua ma non importa noi comunque andremo avanti e iniziamo con la sigla ecco cosa posso proporre le goccioline dell'acqua e un panorama un po' blumbeo e lì nello sfondo in basso si vede qualche piccolo rossore ma non credo che questa mattina vedremo l'alba non importa noi comunque andiamo avanti vai 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 si sente ancora qualche galletto superstite che continua a cantare ma non vorrei essere nei loro panni dal momento che per natale rischiano grosso abbiamo terminato la salita molto bene così possiamo andare sempre più veloci amici cosa c'è di meglio che ascoltare della musica tranquillamente senza dover restare attenti alle strisce le macchine i rumori ai pedoni e vai la nebbia agli irticolli pioviginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggiare male quindi amici abbiamo terminato anche oggi sono felice di essere stato in vostra compagnia vi saluto a tutti un buon proseguimento di giornata e ci vediamo domani se Dio vuole ciao e ve l'avevo detto che avevo poco da proporvi e vi propongo solo dell'acqua oggi sotto forma di goccioline sotto forma di nebbia e sotto forma di umido bene dopo avervi mostrato tutte le forme dell'acqua è meglio che non vi mostri le estremità dei miei parti perché è praticamente inzaccherata sì un certo ubiccio quando ho detto che vi ho mostrato l'acqua in tutte le forme beh mi sono dimenticato una cosa allo stato solido oggi non è freddo pertanto non è viacciata l'acqua ok amici spero di non avervi annoiato con questa raffica di scatti in tal caso voi sapete cosa fare il ditino pronto sul pulsante stop oppure il ditino sul telecomando che non posso certo togliervi dalle mani ok ok ciao a tutti arrivederci comunque grazie se avete posato il ditino sul mio stato ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti